Ciao grandissimi e ben ritrovati! Oggi vediamo un mercato abbastanza particolare, ci sono parecchi dump, mini dump, però altre monete che stanno andando molto molto bene, tra le quali c'è ovviamente Cardano. Come vi dicevo qualche video fa c'era la possibilità di superare o arrivare perlomeno ai 2 dollari. Bene, li abbiamo superati e anzi qualche minuto fa addirittura ha raggiunto il suo nuovo ATH, ce lo andiamo a vedere, 2 dollari e 17 questa mattina alle 8, quindi tanta tanta roba. Allora se avete intenzione di prenderlo, io non è che do consigli finanziari, però non lo so, vedrei un attimo di aspettare che probabilmente riscenderà sotto i 2 dollari, potrebbe essere un buon momento per entrare su Cardano, perché se inizia a partire ve lo giocate. Io sono super contento, perché come vi dicevo è stata una delle prime monete su cui ho investito e sta andando alla grandissima, non calcolando il fatto che tra un po' verrà anche lanciata la piattaforma Cardano e da lì penso il prezzo salirà alla grande. Ci andiamo a vedere però gli altri movimenti che possono essere interessanti, tra cui quello di Dogecoin, che non ritengo interessante, però bisogna dirlo ragazzi, Elon Musk ha un po' rotto le scatole, perché sempre, come vi dicevo in un altro video, ero sicuro che sarebbe successo qualcosa dopo il dump. Vi ricordate l'8 maggio che Elon Musk andava in televisione e ci si aspettava che Doge sarebbe arrivato a un dollaro, così non è successo, anzi è dampato del 38%. Bene, ovviamente Elon Musk se ne esce dicendo che sta lavorando insieme agli sviluppatori di Doge per migliorare questa coin e quindi ovviamente il prezzo di Dogecoin è risalito, anche se questo balletto che si sta facendo dietro questa moneta che non serve a nulla, sta un po' stancando. Oltre a questo vediamo una salita incredibile di Polkadot, sta andando alla grande, tra virgolette, purtroppo, perché stavo aspettando un ribasso per rimpolpare un po' i Dot nel mio wallet, però ahimè non è successo e vabbè, pazienza, però c'è un prezzo interessante sicuramente per Cake. Ce lo andiamo un attimo a vedere, eccolo qui, Cake che si sta sessando sui 30 dollari, quindi io non appena arriverà sui 27 dollari sicuramente qualcosina andrò a prendere perché è sicuramente un progetto che andrà a salire. Un'altra cosa interessante, molto interessante, non so per chi ha seguito la faccenda, adesso su Binance, che è un exchange, l'exchange più grande che abbiamo al momento, anzi vi lascio un link in descrizione, è un referral, ma in realtà i guadagni praticamente non ci sono, semplicemente paghiamo meno di fees quando facciamo le transazioni, quindi vi metto un link così pagate meno voi le transazioni e pago meno io le transazioni, purtroppo non c'è guadagno sul deposito come su Coinbase. Comunque andiamo a vedere, qui stiamo parlando di stock token, bene, quindi non stiamo parlando della coin, di una cripto, perché Coinbase comunque doveva fare anche una sua coin, ma insomma per adesso non ne parliamo. Però dal lancio, che era partito a 404 dollari, al momento siamo a 2.56, 2.58. Io credo che tra poco farò un mio ingresso, perché comunque Coinbase è sicuramente un'azienda molto molto importante che in futuro sono sicuro farà grandi cose, quindi al momento questo prezzo secondo me è un buon prezzo di ingresso. Vediamo un po', forse aspetto un altro paio di giorni, 2-3 giorni e vediamo che cosa succede. Immaginate che questo dump è stato dato principalmente dalla FOMO iniziale, perché era la prima volta che venivano messi degli stock token su Binance, quindi tutti a comprare ovviamente Coinbase, c'è stato un crollo e adesso forse si può pensare di fare il proprio ingresso, però boh, non lo so, aspettiamo un altro pochino. Detto questo ci spostiamo sui giochi blockchain, vi voglio far vedere un po' di aggiornamenti, purtroppo MyTheFiPath ieri avevano lanciato il gioco, però c'erano un po' troppi bug, l'ha lanciato in alfa ovviamente, sono riuscito a giocarci un pochettino, però purtroppo oggi è in aggiornamento e quindi non vi posso far vedere tutti i miei mostriciattoli un'altra volta, sembra fatto apposta. Comunque andiamo su Alien Wars, se avete seguito la storia avevo droppato un NFT da 300 dollari, in questi giorni nel mercato si era abbassato, avevano iniziato a venderlo a 200 dollari, quindi io ho venduto questo NFT svenduto a 200 dollari, purtroppo non ho avuto un guadagno di 100 dollari in più, però va bene perché l'ho cambiati immediatamente per altri NFT, che sono questi qui. Se non sapete di che cosa sto parlando andatevi a vedere il video che ho fatto proprio su Alien Wars. Comunque la terra rimane sempre la stessa, però ho comprato questi 3 NFT. Perché ho comprato questi 3 NFT con quello che ho guadagnato vendendo l'altro NFT? Perché comunque il recharge time è molto più veloce, tant'è che ogni 24 minuti posso fare la minata, ma anche la possibilità di droppare NFT è più alta. In più abbiamo qui, se vedete in basso a sinistra di questo non ve ne avevamo parlato, questa è la power, ovvero maggiore è il numero che abbiamo qui, 3, 1, 1, quindi 5, minore alla CPU utilizzata ogni volta che miniamo, quindi insomma comodissimo perché possiamo minare praticamente tutto il giorno. Tra le tante la potenza di mining è 5, 5, 1 e la potenza invece di drop NFT è 6, 1, 1, quindi assolutamente assolutamente non male. Infatti riesco a fare per lo meno 0,1, 0,2 TLM ogni volta che mino orientativamente. Quindi vediamo un po' come andrà. Ovviamente ho già droppato qualche NFT di pochissimo valore, tra cui quest'alieno, poi due vale che comunque ho messo al mercato, però ci sono delle novità perché probabilmente questi minion che per adesso non sono utilizzabili verranno utilizzati molto presto perché comunque Alien Wars ha lanciato, sta lanciando in realtà, diciamo la patch per raggiungere il ThunderDome e Manage Land, quindi vediamo un attimino quando accadrà e che cosa succederà. Una cosa per chi sta seguendo e chi ha seguito insomma la questione dell'Airdrop, ovvero dove ci vengono regalati dei token di XVS, allora questo è il countdown perché gli XVS verranno rilasciati quando si arriverà a questo blocco. Se non avete comprato ancora XVS andatevi a vedere il video così sapete quanti ne dovete comprare, comunque sono pochi, li potete comprare su Binance, sempre il link ve l'ho lasciato in descrizione e attenzione perché oggi è l'ultimo giorno quindi oggi verrà fatto uno snapshot e poi dal 17 in poi verranno distribuiti questi airdrop, di quanto non lo sappiamo però chi lo sa. Comunque XVS a prescindere è validissimo quindi io consiglio di dargli un'occhiata. Ci andiamo a spacchettare le ricompense stagionali di Splinterlands, vi ho fatto un video anche su questo gioco se lo volete andare a vedere e vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche cosa di carino. Sono poche le casse 15 casse perché non ho avuto tantissimo tempo per giocarci mi sono fermato ad Argento 2 però andiamo a vedere un attimino se troviamo qualcosa di carino ok già abbiamo una rara che non è male questa tra le tante se non sbaglio poi abbiamo pozioni dark pozioni un'altra carta inutile non ci sta dicendo benissimo abbiamo trovato una buona rara carte inutili tutte common e vabbè e pozioni che comunque fanno sempre comodo valutate un attimo adesso il mercato monitoratelo perché potrebbero esserci delle buone posizioni di entrata domani non credo che farò un video forse ci vediamo direttamente lunedì chi lo sa rimanete sintonizzati campanella bacione grazie a tutti grazie a tutti